Brescia con Amore è arrivato quest'anno alla sua quinta edizione e oltre alle vantaggiose offerte con molti commercianti e ristoratori del centro ha proposto un contesto fotografico. Ai nostri microfoni parla Anna Trentini. Andando su bresciaconamore.com si possono trovare come sempre tutte le offerte legate ai ristoranti, locali e dei regalo della nostra città su un portale comunque molto più giovane, più facile sicuramente e ovviamente compatibile con gli smartphone quindi si può prontare direttamente dal telefonino. Mentre per quanto riguarda gli eventi in piazza ci troviamo appunto in questo momento in piazza di Escovado che stiamo finendo di allestire il set fotografico dove appunto ricordiamo che la foto che avrà più like sulla nostra pagina di Brescia con Amore di Facebook vincerà un weekend a bordo della nuova Smart a Firenze per due persone per due giorni quindi venerdì e sabato. Ricordiamo che è un set fotografico molto particolare non nel solito set fotografico statico ma sarà in movimento non sbagliamo altro per una settimana quindi da evento finito quindi il 14 fino a sabato dopo poi sarà il termine nel quale appunto si potrà votare su Facebook la foto migliore, più bella.